Abbiamo battuto una squadra forte, organizzatissima, allenata molto bene, una squadra che non perdeva dalla prima giornata, fuori caso non aveva mai perso e noi venivamo da una partita onestamente brutta, quella di Orvieto, al netto dell'assenza che avevamo ma non potevamo essere quelli da un punto di vista dell'atteggiamento e dell'adeguatezza alla categoria e oggi invece abbiamo fatto una partita da Serie D, di questo girone, che è un girone difficilissimo, si fa una partita pulita quando può essere pulita, sporca, dura, decisa e con la voglia feroce di non prendere gol come è stato oggi. Mercoledì è una partita diversa e noi adesso abbiamo bisogno di recuperare perché questa è una partita che abbiamo iniziato a giocare da lunedì, perché quando si viene da una partita così brutta una partita poi si gioca tutta la settimana e così è stato, dispendio le energie fisiche ma soprattutto nervose è stato elevato, adesso abbiamo un giorno di riposo e da lunedì pensiamo a una partita bellissima da giocare in un contesto ancora più bello e che noi vogliamo giocare meglio dalla partita di Coppa Italia.